che da settembre, quindi poi è il 28 quando dovrai rinnovare nel caso sempre livello 1 ci avrai uno sconto del 25% sulla tua sub e se ti vai a rinnovare direttamente per 6 mesi magari perché ti senti pazzerello e paghi 15 euro ti vai a fare uno sconto di 5 euro su cosa? sui 6 mesi, se uno gli facesse base che costano 20 euro hai capito il mene gildo? non stiamo a parlare di bischiere partita trovata con 36 giocatori wow gli altri 4 che avevano una connessione instabile gli ultimi giorni di settembre le sub costano ancora meno di tutto settembre no costano tutto settembre, hanno gli sconti però dal 26 al 31 30 giorni a novembre con apri, giugno e settembre dal 26 al 31 ma in realtà è dal 26 all'1 c'è stato il 25% di sconto sulle sub giftate coomer grazie per i 19 ben tornata come fai a stream? prima 8 ore di notte ah la mappa che non si è mai giocata ma che Manux continua a dire che abbiamo giocato questo mo chi cazzo è Andrea Zichi? questo non ha mai giftato una sub ah e prima i 10 sub che gifta col gold e grab game ho capito Andrea Zichi gli fate uno spammetto dei poni per porco dio fate un bello spammetto di poni che so e prima che gifta grazie grazie lo fate bello denso bello ciotto bello odoroso che puzza proprio capito di fieno tipo lì lì questo lo facciamo nel bing e ci arriviamo grazie Andreone thank you benvenuti a tutti Simplicarma Pat bentornati grazie Simplicarma grazie per il livello 1 ma che fa questo? è pazzo nella tranquilla cittadina di Chiaravalle l'inventore J.Pata ha dato vita a invenzioni straordinarie come Luminella che trasforma rifiuti in luce e volacqua che estrae acqua dall'aria la sua genialità illuminò la comunità e ispirò il mondo intero ZV Jackson mi ha dissato bella vita perché c'ho l'iPhone tutto frasico? ma? oh porco Dio c'è tutta l'acqua nell'iPhone ma zio porco oh porco Dio ma? J.Pata ci ha sborrato un burger va bene grazie per il bit Jack Hermenegildo grazie per il sub giftato pesa controllato aiuto aiuto sul serio è molto divertente giocare a Fruit Ninja ma è cascato pure mia madre madonna sta stirati tutti porco cazzo questa ragazzi ve la devo proprio dire oh mainagio stasettimana su Reddit riusciamo a non avere parole bannabili chiedo sia mai sei stato chiccato dal server la connessione era instabile solo settimana è il caso tanto in stream ci sto io quanto cazzo vorrei donarti 50 sub ma non c'ho un euro ma frate diventa ricco e via me ne ha donato 100 e un sdrogo porca la merda smerdosa in attesa dei giocatori che sono già tutti in lobby ma la lobby non parte per favore non piangere non ci rimanere male che noi noi ci conosciamo bene che cos'è questa roba cos'è questo abominio dove devo andare devo andare giù è quella di prima no è un'altra questa non ho mai giocata ma non so direbbe ovviamente che l'abbiamo giocata 7 volte dovevo usartà sono un coglione mazza quello che volo che ha preso anche se non l'ho giocata signori voglio dire tutta la mole del mondo nel senso ti ci parla come mani danny nella mia stalla alle 5.34 c'è ancora posto per 5 cavalli golden button per te jaynana palleggio di ano jaynano palleggio di ano jayano palleggio di ano jayano grazie danny per me energy grazie anche a te signori e signori è arrivato il momento di dirvi che avete il tempo della finale anzi avete il tempo della peggior finale mai creata su questo gioco per trovare 21 sub per la grab game se no esattamente shaggy grazie per l'anno se no c'è lui il grande joach con manuxo re dei manuxi imperatore delle puttane di merda di manuxo che gioco mamma che finale del cazzo madonna peggior finale mai creata su un videogame dove si va si va di qua strong impossibile per noi saltare può passare in avanti Gianmarco Tocco che cerca il vandalo della madassa adesso spera addirittura di passare qui ed è aperta adesso passa al lato ed è aperta ed è aperta è chiusa ed è aperta ci volevo andare da subito zio porco è chiusa ed è aperta è chiusa è chiusa easy è meglio il piscio di scoiattolo o la merda di paguro ma guarda non mi sono andato al filà porco di Dio no